Un aspetto molto importante della raccolta dei rifiuti è la raccolta differenziata. Noi dobbiamo raccogliere i rifiuti in maniera separata per poter dare nuova vita al rifiuto. Il rifiuto in sé non è qualcosa che va buttato via, è qualcosa che ha ancora un valore. I nostri nonni ci insegnavano che non va buttato via nulla. Anche adesso noi possiamo farlo. Possiamo riutilizzare la carta per fare nuovi libri, nuovi quaderni. per non dover tagliare alberi. Possiamo utilizzare l'alluminio delle lattine, il ferro dei barattoli per non dover consumare risorse naturali. Anche la plastica. La plastica che noi raccogliamo in maniera differenziata può essere riutilizzata in mille modi. Per esempio i giochi che voi utilizzate nei parchi, le panchine, le altalene, sono fatti in plastica riciclata. Anche tanti pile, quei maglioni che usate d'inverno ad andare in montagna, sono fatti con le bottigliette dell'acqua minerale. Capite quindi l'importanza di fare la raccolta in maniera differenziata e farla bene. Parliamo di vetro. La raccolta differenziata del vetro è una delle più semplici e più importanti raccolti differenziate che si possono fare. Il vetro può essere riciclato tantissime volte e ogni volta viene utilizzato per fare nuovi prodotti, nuove bottiglie. Però è molto importante la qualità. Pensate che solo piccole parti di ceramica, quindi una tazzina del caffè, un piatto rotto, un bidone del vetro di fatto lo rovina. Perché la ceramica è un forte inquinante del vetro. Quindi ragazzi mi raccomando la qualità della raccolta differenziata. Se noi facciamo bene la raccolta differenziata con attenzione, possiamo dare nuova vita al rifiuto. Quando vi dicono che i rifiuti che voi raccogliete in maniera differenziata vanno tutti poi alla fine assieme, non è vero. Come vedete nelle immagini, i rifiuti che vengono raccolti in maniera differenziata hanno destinazioni diverse. L'umido va a impianti di compostaggio, il verde, quindi gli sfalci, le potature vanno a impianti di compostaggio, il vetro, la plastica, la carta, vanno a impianti di separazione, di valorizzazione del materiale, dove viene pulito e viene confezionato per le cartiere oppure per le vetrerie. Abbiamo quindi degli impianti che servono a valorizzare il materiale raccolto e quindi a lavorarlo per poi darne nuova vita. Come diceva un capo indiano, questa terra noi non l'abbiamo ereditata ai nostri genitori, ma è in prestito. Dobbiamo restituirla a chi verrà dopo di noi. Quindi l'impegno di tutti per far sì che quello che lasceremo ai nostri figli sia una terra migliore di quella che abbiamo ricevuto. Grazie. Grazie.